Perché ingrassiamo? So che in molti se lo sono chiesti almeno una volta nella loro vita. Bene, adesso risponderò proprio a questa domanda, perché solo comprendendo i delicati meccanismi che regolano il nostro peso corporeo, saremo in grado di gestirlo con maggior efficacia. Io sono Mattia Garutti, mi occupo della cura dei tumori in ambito ospedalero, ma mi occupo anche di nutrizione e prevenzione. Se vi piacciono questi temi, tante pillole di medicina, potete iscrivervi al canale in modo da non perdervi i prossimi contenuti. Se invece volete mettervi in contatto con me, ci vediamo su Instagram. Perché ingrassiamo? Anche se pensi di conoscere la risposta, sono sicuro che le informazioni che tra poco ti dirò ti potranno sorprendere. Ma cominciamo dall'inizio. La risposta semplice è che noi ingrassiamo perché le calorie assunte sono superiori a quelle che noi spendiamo. E la storia potrebbe finire qui. Ma invece no, perché c'è molto molto di più. Ascolta questo ragionamento. Noi assumiamo calorie dal cibo, e fin qui tutto regolare. E consumiamo energie vivendo. Cioè i nostri organi per funzionare bruciano energie, appunto le calorie. Da questo semplice e spietato bilancio si deciderà il nostro peso corporeo. Se assumiamo più calorie di quante ne spendiamo, il nostro peso aumenterà. Se ne assumiamo di meno, scenderà. Se ne assumiamo un'egual quantità, rimarrà invariato. Quindi lo voglio ripetere per non rischiare di essere frainteso. Il bilancio calorico è l'unico parametro che conta. Ai fini dell'andamento del peso corporeo. Ma dentro il bilancio calorico si nascondono dei dettagli incredibili. Scomponiamo quindi l'equazione in due sottoragionamenti. Il primo è quello che riguarda l'assunzione di calorie. Il secondo è quello del dispendio energetico. Di quest'ultimo oggi non parleremo. E ci concentriamo invece sul primo. Quindi l'assunzione di calorie. Com'è che assumiamo queste odiosamate calorie? Attraverso il cibo, certo. Ma c'è qualcosa che viene prima. Molto prima. Immaginate questa situazione. Avete appena preso una gastroenterite. Avete passato la notte romanticamente abbracciati al vostro batter a vomitare. E la mattina avete tutto lo stomaco sotto sopra. Ecco un bel cornetto burroso con un cappuccino con una bella spolverata di cacao. Probabilmente sarebbe l'ultima delle cose che vorreste. Anzi solo l'idea vi risulterebbe nauseabonda probabilmente. E proprio questo è il punto. Noi mangiamo qualcosa perché abbiamo lo stimolo a farlo. Cioè lo stimolo di mangiarla. Lo stimolo cioè della fame. Dell'appetito. Della voglia di qualcosa di goloso. Insomma siamo motivati a mettere qualcosa di edibile nella nostra bocca. Questo impulso è potentissimo. Ed è un determinante essenziale del nostro peso corporeo. Ma vi dirò di più perché questa pulsione è determinata geneticamente. Cosa significa tutto questo? Che alcune persone hanno geneticamente più fame di altre. Per alcune persone è geneticamente più difficile resistere alla fame. Anzi alcune persone non solo non riescono a resistere alla fame. Ma hanno sempre fame. Per capire meglio queste affermazioni dobbiamo fare un tuffo dentro il nostro cervello. E in una zona chiamata ipotalamo. Al cui interno si trova una piccola isola di neuroni chiamata nucleo arcuato. Questa piccola area è formata da due tipologie di neuroni. Quelli chiamati POMC, POMC, e quelli AGRP. I primi producono delle sostanze chiamate anoressizzanti. Cioè in grado di toglierci la fame. I secondi invece producono delle sostanze che ci inducono fame. L'attività di questi due tipi di neuroni è regolata da decine e decine di diverse proteine. E indovinate un po'? Esatto. Ognuno possiede delle proteine un po' diverse da quelle degli altri. Ecco perché ognuno di noi ha una diversa spinta ad alimentarsi. E a resistere, oppure non resistere, alla fame. Lo so che adesso qualcuno dirà Ma dottore, basta stringere i denti e la fame si controlla. E no, purtroppo non è sempre una questione di volontà. O almeno non solo. Se non ci credete, ascoltate quello che sto per dirvi. Esiste infatti una condizione genetica in cui si ha la mutazione di un gene, quindi un piccolo pezzettino di DNA, chiamato MC4R. Questo regola appunto la funzione dei neuroni che abbiamo visto prima, cioè quelli che regolano la fame. E l'inattivazione di questo gene causa una paralisi del meccanismo anoressizzante. Cioè se MC4R non funziona, abbiamo fame. Pensate che questa situazione si stima interessare circa una persona ogni 300. E in queste persone la fame è così intensa che spesso, anche se non sempre, si va incontro a un'obesità già da bambini. Ed è interessante come in questa situazione dare un farmaco che riaggiusta la funzione di MC4R migliora enormemente la sintomatologia e si ha un calo drammatico del peso. Il farmaco, per i più curiosi, si chiama setmelanotide. Ora, questa storia ci fa capire che tra i nostri geni, quindi dentro il nostro DNA, si annida la nostra tendenza a mangiare. A mangiare troppo, a diventare sovrappeso o addirittura obesi. So già che alcuni diranno, vabbè ma se è tutto scritto nella genetica, allora è inutile che mi impegni per mantenere un giusto peso corporeo. E qui scatta l'errore. No, la volontà, il contesto in cui viviamo e le scelte che facciamo giorno per giorno contano e come. Pensiamo per esempio alle abbuffate compensatorie da stress. O alla scelta ripetuta di cibi molto calorici e poco sazianti. Classici cibi ultraprocessati. Ora, è vero che esistono alcune condizioni genetiche che ci danno la quasi certezza di diventare obesi. Ma queste sono davvero poche e sono le cosiddette obesità monogeniche. Cioè che dipendono da un singolo gene, un singolo pezzettino di DNA potentissimo. Cioè che ci spinge con una forza enorme a mangiare. E in questi casi si determina spesso un'obesità in forma infantile. Ma sono invece molto più frequenti i sovrappesi o le obesità definite poligeniche. Cioè che dipendono da molte più zone del nostro DNA. Alcune ci spingono verso la sazietà e la magrezza e altre verso la fame e il sovrappeso. Quindi in base a una sorta di somma sarà deciso geneticamente verso quale direzione saremo più inclini. Ma attenzione! Perché inclini non significa condannati. Infatti un leggero impulso alla fame potrà essere controbilanciato da abitudini virtuose, routine efficaci ed efficienti, trucchetti alimentari e strategie dietetiche e di stile di vita. Ricordiamoci che non tutti quelli che hanno una predisposizione all'obesità poligenica raggiungono il sovrappeso. Vi sarete resi conto che la gestione del peso corporeo è un tema enormemente complesso. E con questo video abbiamo solo cominciato a grattare la superficie. Se volete che crei altri video sul tema, per esempio sulle strategie per controllare la fame o su come gestire al meglio il peso corporeo, fatemelo sapere qui nei commenti oppure su Instagram. E se vi interessa il magico mondo della medicina e della salute iscrivetevi al canale. Ciao! Ah, piccola nota aggiuntiva. Questo video non è stato creato per indurre delle fissazioni sul peso corporeo, o sul sovrappeso, o sull'obesità, ma per ampliare la nostra conoscenza e consapevolezza su un tema che interessa da vicino la nostra società. In pratica sapere per prevenire, curare o gestire in modo efficace. Ciao!